Mi presentano le progetti, le idee, così la mia idea prima di tutto è nel mio professionismo che sto facendo, è sport. Io voglio portarlo fuori, prima in calcio e poi in un verso di sport perché è il mio mondo. Poi altre cose fa piacere se esce su tutti quanti perché se funziona funziona per tutti, come ho detto prima. Poi voglio portare il mio paese, Svezia, che siamo già lì, era uno dei miei wishes, di entrare in Svezia il più veloce possibile. Poi le cose vanno bene in profondo è il lavoro di loro, non è il mio lavoro, è il mio lavoro.